Aaaaaa, aaaaaa, uuuuuuuh Oggi facciamo il punto sulla visita istituzionale del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso agli oltre 1100 alunni dell'Istituto Superiore di Poppa Rozzi di Teramo che annovera gli indirizzi alberghiero, agrario e commerciale. A ricevere il Presidente, oltre alla dirigente scolastica e ai rappresentanti del corpo docente e non docente dell'Istituto, una nutrita rappresentanza di studenti. Questa scuola, detto d'Alfonso, è custode dei valori di un'antica cultura contadina trasmessa dei vostri nonni e al tempo stesso erogatrice di innovativi saperi finalizzati a garantire la qualità e la sicurezza dell'alimentazione. Qui trovo realtà, trovo progetto di vita, ambizione ed entro nel merito di questioni che se affrontate e risolte davvero costruiscono una società migliore, un Abruzzo migliore. Poi mi complimento con i ragazzi che ho conosciuto, che sono intervenuti, con questa comunità di insegnanti che davvero sente un rapporto morale con l'attività lavorativa e poi anche con il dirigente scolastico che io continuo a chiamare preside. E poi la missione educativa di questa scuola è una missione di straordinaria modernità anche tenendo da conto dove è nata l'economia agraria nel centro-sud. Ha a che fare con l'Abruzzo e dell'Abruzzo ha a che fare con Teramo. I ministri del Regno erano ministri che concepivano lo sviluppo dell'economia attraverso l'estrazione della potenzialità della terra. I comizi agrari nascono qui ad opera di Giuseppe De Vincenzi di Notaresco e mi piace moltissimo essere venuto all'interno di queste mura che sono una scuola storica per cercare di capire come procede l'educazione con finalità di economia agricola. Grazie a tutti.